Benvenuti amici di Tokyo Watch Italia Un video così, a quest'ora, non l'ho mai girato Cioè in realtà forse sì, però così importante non l'ho mai girato Per due motivi Uno, per l'aggiornamento che è appena terminato di PuniPuni Sto parlando dell'aggiornamento del 15 di marzo 2021 Cambia tutto ragazzi, cambierà tutto quanto Dal prossimo evento praticamente, che è tra poche ore E per SaviOK Watch SaviOK Watch, ho già fatto un articolo che trovate con il link in descrizione sul sito internet E potete leggere tutto lì, comunque in live oggi ne parleremo E invece andiamo a PuniPuni ragazzi Cosa è successo di PuniPuni? Prima di tutto iniziamo a lasciare like, iniziamo a condividere Io vi sto parlando di quello che si è capito per ora Di quello che almeno io ho capito per ora Perché PuniPuni cambia Non ci sarà più la slot americana Nella slot centrale, comunque adesso andremo a vedere Nella slot centrale non si potranno più trovare i segreti Ma quando si troverà lo stesso yokai più volte Non so, Jibania lo trovi due volte Nella stessa slot o in un'altra slot lo trovi un'altra volta Le sue statistiche aumenteranno Ok? Perché sta roba qua? Perché sta roba qua? E soprattutto unirlo a un evento golf Perché? Perché ci volete così male? Non va bene? Non va bene? Comunque vediamo Allora l'evento è terminato tardissimo Questi sono i nuovi yokai che ci saranno nell'evento Saranno 2ZZ, 3ZZ, 3SSS e 1SS Ok? Ovviamente questo che lo vedete Queste informazioni prese da yokaiwatch.es Che loro sono sempre sul pezzo Questo è quello che succederà Nella slot dei punti Quando ci sarà qualcosa di interessante Non so, uno Z e un doppio Z Ci sarà questa nuova gascia Questa nuova sfera di tipo di diamante Mi ricorda molto Nanatsu Quando c'è il diamante Trovi qualcosa di molto interessante E probabilmente questa sarà l'animazione Di quando succederà ciò Sapete che quando slotti normalmente Fino ad oggi Quando slotti c'è Whisper che dice Kuri wa masaka E adesso dirà anche qualcosa di nuovo E ci sarà questa nuova animazione Immagino Immagino Per poter vedere le cose nuove che ci saranno Bisogna ragazzi Per forza di cose Aggiornare Puni puni E come si fa ad aggiornare puni puni Aggiornare puni puni Bisogna come sempre andare su Quo app Per poterlo scaricare Che bello che non lo farò Che intanto crasha Che bello che non lo farò vedere in live Andiamo sui nostri giochi E c'è lì in pole position Yoke watch puni 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 Se non lo avete Dovete scaricarlo di nuovo Come sempre Vi dico di scrivere Yoke watch puni puni Non potete sbagliarvi Andiamo ad aggiornarlo E se ho un po' di punti Provo a fare una crank Anche Nella slot centrale Che ormai credo che sia solo quella Boh vediamo Vediamo un po' cosa succede Installazione Ci vuole veramente Veramente poco Apriamo Sono 50 mega 17 slot Una roba del genere Una ventina di slot Ho davvero paura Per questo evento Perché Uno Finiremo i punti Due Probabilmente Molti si allontaneranno Dal gioco Perché non avranno più Modo di Maxare lo yokai Prima era molto facile Maxare lo yokai Se giocavi da tempo Perché Slottavi soldi 11 mega Slottavi i soldi Ah no Solo 6 slot Slottavi i soldi Forse ce la farò a dirlo Slottavi i soldi Slottavi i soldi E quindi Continuavi a maxare La slot centrale E una volta che l'avevi maxato Trovavi solo segreti Ok Ed era molto facile Portare un nuovo yokai Magari utile per l'evento Al 7 Al 100 di livello No al 100 no Però al 7 si Era davvero Davvero semplice Ci voleva solo tempo Come vedete Il nostro Buon shogu Ha slottato Un botto Di punti Di soldi Lo vedete Da in alto E quindi Avremo Un po' di segreti Utili da usare Nel tempo Allora vediamo che è successo Cos'è sta roba qua Attenzione Attenzione Non ci dice niente Non ci dice niente Magari aggiungo gli italiani Ti immagini Che gran stare No dai Andiamo a vedere subito Questa slot Andiamo a vedere subito Questa slot Perché dovrebbe essere già attiva Allora E che vedete È cambiato tutto Non c'è più la slot americana C'è quella a pagamento Quella dei punti Andiamo a fare Una multi Da 30.000 È buttata via Sto buttando via 30.000 Però credo che I soldi adesso Non serviranno più di tanto Vediamo un po' cosa succede Non ho messo neanche la musichetta Chi se ne frega ragazzi Vediamo un po' Slottata Tutte rosse Non c'è neanche una dorata Molto bene Ok Ok Dracunian Vedete che c'ha adesso La statistica della vita E la statistica dei punti Cioè Dell'attacco Non ha più Il livello Usapion Abbiamo trovato Un A nella blu Due A nella blu Si potevano trovare Gli A nella blu Non mi ricordo Però i B nelle rosse Sì Quanti ne volete Hanno invertito i colori Allora guardate Guardate i doppioni Che sono aumentati Ok Abbiamo trovato due sfere Chissà perché Abbiamo trovato solo due sfere Forse sono capite anche Di yokai nella slot Per esempio Puni Puni Chi era Puni Com'è che si chiama Questo qua Non mi ricordo Mi sa che non si poteva trovare Ma che ha detto anche Di yokai Va bene Però Però ragazzi Guardate I Darknian Ok 231 di vita Quello sopra E quello sotto 238 Quindi Secondo me Questo aggiornamento È stato fatto Per chi È appena Appena è iniziato a giocare Appena è entrato in questo mondo Che si può Portare avanti Gli yokai Base Quelli Scarsi rispetto Agli Z E quindi È più facile Fare determinati livelli Però Cioè Tu stai Tagliando fuori Tutti quelli Che Cavolo Ci giocano Da anni Boh Non lo so Non l'ha ancora capita Sto là Mi sa che Ne capiremo di più Con l'inizio dell'evento Quando usciranno Le notizie In giappone Cioè Dei giapponesi Che se lo studiano Che capiscono Che cosa succede E quindi Ne parleremo in live Ragazzi Io vi aspetto In live Ore 16 Magari un po' Prima delle 16 Dovrei averla già impostata Questo video Uscirà la mattina Non so perché Anzi Lo so perché Perché Se no Non avrebbe senso Di averlo fatto E ragazzi Mi raccomando Supportiamo Pollicioni su Andate in descrizione Se il video che watch È molto molto importante Anche se non funzionerà Però noi ci proviamo Va bene Bella lì Ci vediamo oggi pomeriggio Ciao ciao